La città di Ittiri ha ottenuto dalla regione un finanziamento di 175 mila euro dopo la partecipazione del comune al bando per i piani di riqualificazione urbana. I soldi saranno destinati alla ristrutturazione di alcune vie cittadine del centro storico, cantieri che potranno contare sullo stanziamento da parte del comune di altri 125 mila euro per un totale di 300 mila euro. Il progetto di riqualificazione riguarda i sottosservizi e il rifacimento del basolato in un lungo tratto della via Amsicora, dall'incrocio con via Cavour alla fontana di Sabadorzu. Il ripristino della pavimentazione storica insieme alla sostituzione dei vecchi impianti idrico-fognari restituirà decoro ad una parte del centro storico attualmente in grave dissesto. Soddisfatta l'amministrazione ittirese guidata dal sindaco Antino Sao che ha sottolineato come nella partecipazione al bando soltanto i progetti di Sassare e Ittiri abbiano ottenuto i finanziamenti richiesti per le riqualificazioni. Previata dunque la scelta dell'amministrazione che nell'individuare la necessità di intervenire per un'opera di sicura utilità per i cittadini ha saputo concorrere con una soluzione che potesse avere buone possibilità di un risultato nella scelta dei progetti da finanziare.